È venuto alla luce a Chieti nell'ambito degli scavi finalizzati e lavori di riqualificazione di piazza San Giustino, il mosaico romano di cui parlava tempo fa lo storico Vincenzo Zecca. L'annuncio è arrivato da parte della Sovrintendenza delle Belle Arti, ora al lavoro sulla sua contestualizzazione nell'antico ambito urbano, rinvenuto a poche decine di centimetri sotto l'attuale piano di Calpestio. Questo mosaico era atteso come ritrovamento, nel senso che era già noto dal 1820 quando fu ritrovato da Zecca nel corso dei lavori che furono fatti per la cisterna che gli sta accanto, la grande cisterna che gli sta accanto, che in parte ne ha provocato anche la perdita. Quindi il mosaico non è intero, il mosaico è un'altra delle testimonianze che ci dice della frequentazione antica e già in età romana ben attestata del Colle Gallo, che non dobbiamo immaginare con la conformazione attuale, ma aveva una conformazione orografica molto diversa, sconvolta nel corso dei secoli dalle frequentazioni successive, buon ultimo dai lavori ottocenteschi che sono stati eseguiti. Quindi il mosaico è importante perché ritorna ancora una volta fuori una traccia dell'epoca della vita romana, dell'epoca classica e della continuità che nel Colle si è avuta come frequentazione e come vita. Vedremo adesso, proseguendo lo scavo, che estensione ha questo mosaico e faremo poi insieme a tutto il resto di quanto è venuto fuori, valutazioni, studi. Come capite bene adesso siamo in una fase di apprendimento di dati. Questi dati vanno rielaborati, vanno letti tutti insieme e a quel punto potremo anche capire meglio e dare delle spiegazioni scientifiche e storiche anche più adeguate a quelle che adesso magari sono solo supposizioni.